ok no 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 se mi muovi la gamba mi fai sbagliato Il primo impatto è stato una spiglia. Altra una vispera, che vediamo come sperimenti. Allora, vediamo. Rilassati. 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 No, ci mancherebbe. La gente non ce ne aveva più di uno. Muevi i piedi. Rilassati. Rilassati. Se hai seguito tutto mano a mano che fai avanti, i contorni sulla scritta non si fanno. Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Ok... Grazie a tutti!